Allora, benvenuto a tutti, grazie della partecipazione. Il webinar di oggi è sulla violenza di genere ed è organizzato dal gruppo tematico Pari Opportunità di IVE. A questo proposito lascio subito la parola a Gabriele Tomei, che è il presidente di IVE, che vi dà il benvenuto. Gabriele, a te. Grazie, grazie Katina e grazie Monica per l'organizzazione di questa iniziativa. Io giusto due parole sulla sede che ospita questo seminario. Scusate, il questionario è un tema su cui oggi lavoravo, questo seminario. AIV, l'Associazione Italiana di Valutazione, è un'organizzazione che dal 1998, quindi ultramaggiorenne ormai, tiene insieme la comunità delle valutatrici e dei valutatori che cercano di condividere i propri percorsi, di approfondire insieme metodologie, schemi deontologici e anche approfondimenti tematici. Da questo punto di vista l'organizzazione interna, come è stato appena detto, è articolata per temi. Abbiamo un'articolazione in gruppi tematici, uno di questi è il presente, quello sulla valutazione delle pari opportunità, ma ci sono altri gruppi tematici che si occupano a seconda dei casi, chi di università, chi di scuola, chi di politiche sociali, piuttosto che di cooperazione allo sviluppo, politiche comunitarie, eccetera. Questa è una struttura che tiene insieme persone e consente di darsi appuntamenti periodici appunto per questo approfondimento. Abbiamo anche, l'Associazione ha messo in piedi anche degli strumenti di condivisione scientifica come la rivista, la RIV, Rassegna Italiana di Valutazione, una rivista scientifica di fascia A per chi segue questi nomenclatori o questi rating, diciamo, per la valutazione universitaria, ma è una rivista che ospita numeri, è un quadrimestrale, quindi tre numeri l'anno, con importanti contributi di metodo e ovviamente anche tematici. E una collana editoriale, sempre presso Franco Angeli, dove ogni anno escono tre, quattro volumi di carattere teorico o di ricerca applicativa. I webinar come quello di oggi, di cui ancora ringrazio Monica Catina per l'organizzazione e tutti, diciamo, i relatori e le relatrici per il loro contributo, sono iniziative importanti che svolgiamo in questa parte dell'anno per confrontarsi e per approfondire alcuni temi che i gruppi tematici ritengono particolarmente rilevanti e meritevoli di un approfondimento. Sono però uno degli appuntamenti con cui l'Associazione promuove queste attività. Mi corre l'obbligo invitarvi tutte e tutti all'appuntamento più rilevante che è quello del congresso annuale. Quest'anno lo terremo il 24 settembre a Rimini, in una forma un po' più contenuta rispetto al nostro solito, quindi in una giornata soltanto, anziché tre, perché si combina con una tre giorni immediatamente successiva, quindi 25, 26 e 27 settembre, sempre a Rimini, in cui AIV ospita la conferenza biennale della European Evaluation Society. Quindi una grande opportunità in quattro giorni di dibattere e discutere a livello europeo dei principali temi che attraversano la valutazione, sia dal punto di vista di chi la valutazione la realizza, dal punto di vista della produzione dell'informazione, sia di chi la commissiona o sia chi la deve utilizzare. Ecco, da questo punto di vista è importante, e qui chiudo davvero, avere consapevolezza che tutta questa attività è frutto di una comunità di persone che appunto sta in piedi e si sostiene, ma che si sostiene anche attraverso l'associazione. Quindi l'invito a partecipare, per chi voglia, anche alla governance di questa associazione, attraverso, come dire, l'iscrizione. Questo a me, a me spetta, me lo prendo io, questo compito anche un po', diciamo, venale, no? Di invitare chi volesse a iscriversi, ma anche come opportunità di incidere e di dare un segnale di maggiore vicinanza e anche partecipazione alla vita associativa. Credo che da questo punto di vista siamo un'associazione inclusiva e molto attiva, anche molto, diciamo, effervescente da questo punto di vista, però credo che la partecipazione sia una dimensione importante. Ne è testimonianza il gruppo tematico valutazione alla pari opportunità che tiene in vita una newsletter, tiene in vita un gruppo anche online con cui alimenta un dibattito e quindi, diciamo, questo credo che sia il contenitore più interessante da questo punto di vista. Quindi ringrazio ancora Katina, Monica e i relatori e le relatrici di quest'oggi. Vi auguro un buon lavoro e chiedo scusa anticipatamente, ma devo rientrare nell'altra riunione da cui sono scappato perché non potevo non portare i saluti a questa straordinaria iniziativa. Grazie Gabriele. Allora, due cose velocissime sul gruppo tematico pari opportunità e poi entriamo nel vivo della giornata. Il gruppo pari opportunità è nato nel 2012 e quindi ha molti anni di lavoro al suo attivo. Si occupa di valutazione di politiche e programmi che riguardano le pari opportunità e con un fuoco particolare sulle pari opportunità di genere. Quindi ci siamo di fatto sempre occupate di donne, donne da molti punti di vista. Perché? Perché la valutazione delle pari opportunità è un tema di assoluta complessità. È di assoluta complessità perché riguarda si ha valutazioni di genere che lavorano in maniera molto diversa. Ad esempio, politiche e programmi che hanno un impatto diretto sul genere. Ad esempio, pensiamo se ci focalizziamo su cosa poi sentiremo dopo, la valutazione dell'inserimento lavorativo di donne che hanno subito violenza. Questo ha un impatto diretto sulle politiche di genere. Ma ci sono anche valutazioni di politiche di genere senza un impatto diretto sul genere. Faccio un esempio di tutti i programmi per l'agricoltura che prevedono anche la valutazione di genere. Cosa fanno queste donne? Che contributo può dare il piano per l'agricoltura all'inserimento lavorativo delle donne? Qui ci muoviamo in un terreno molto diverso. E ancora di più, ci sono ambiti di valutazione che lavorano su target multipli e intersezioni della politica di genere con altre politiche. E quindi la complessità aumenta ancora. Parlo ad esempio, che ne so, donne immigrazione, donne povertà, donne welfare, ma anche donne lavoro, ma anche donne economia. Quindi arriviamo a qualcosa di veramente molto vasto. Ma non solo. La cosa è ulteriormente complicata perché? Perché è un tipo di lavoro e di valutazione che prevede una multifattorialità. Quindi ad esempio, la necessità di team di lavoro multiprofessionali, la difficoltà dell'emersione di alcuni fenomeni, ad esempio la reticenza a parlarne, per cui la difficoltà a avere banche dati attendibili. Questo per i valutatori è sicuramente un grave problema. Il rapporto tra valutazione su singole e valutazione sull'organizzazione, che sono due cose che fanno fatica a parlarsi, ma è necessario farle. Il tema della valutazione della rete e il tema della valutazione dei risultati a lungo termine. Sono tutte cose che in questi 12 anni abbiamo affrontato, ma che lasciano comunque delle strade molto aperte alla discussione. Ultima cosa, per iscriversi al GTI e partecipare a tutte le attività del gruppo tematico, che sono diverse, questa è una che vedete ma ce ne sono altre, è necessario iscriversi a IVE e segnalare che si vuole partecipare ai lavori di questo gruppo tematico. Ce ne sono altri otto, per cui eventualmente si può anche scegliere la multiappartenenza, che ne so, uno vuole fare scuole, pari opportunità, welfare, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo, pari opportunità. Insomma, poi qui ognuno può scegliere all'interno dei percorsi il suo interesse e quello che preferisce fare. Grazie ancora di tutto, lascio la parola a mia collega Monica, che coordina con me il gruppo tematico, e vi saluto anche lei e poi lasciamo la parola a Simonetta Fedrizi, che è il discasso della giornata. Grazie a tutti per la partecipazione e buon ascolto. Grazie Catina, un saluto velocissimo per ringraziare tutti, naturalmente il relatore, le relatrici e tutte le persone che sono qui presenti. Mi viene solo da fare un augurio, un auspicio, che quello che la valutazione sia anche strumento per dare realmente delle indicazioni pratiche, cioè che possano essere messe a disposizione delle istituzioni, degli attori, ma anche di ciascuno di noi, perché possiamo farne un buon uso, cioè che la valutazione non sia soltanto, come dire, un esercizio intellettuale, e una sollecitazione che faccio anche a me stessa e a ognuno di noi. L'obiettivo del GT Pari Opportunità e anche del webinar di oggi è un po' questo, appunto di fare in modo che sia uno stimolo all'azione concreta, soprattutto davanti a tematiche, come può essere evidentemente quella dell'Avvirenza, dove credo che ogni persona abbia il suo piccolo tassello di responsabilità. Ecco, quindi grazie, grazie davvero e lascio la parola a Simonetta. Grazie. Bene, buon pomeriggio da parte mia a tutte e a tutti. Grazie in particolare a Monica e a Catina per avermi coinvolto su questo webinar, su un tema che mi sta particolarmente a cuore. Prima di... e ringrazio anche l'associazione perché aver deciso di dedicare questo webinar al tema della violenza di genere secondo me è significativo, vuol dire che sono anche maturi tempi per iniziare a ragionare su questa tematica specifica all'interno del macro tema della violenza di genere. Prima di iniziare con le relazioni appunto delle relatrici e del relatore vorrei rispondere, cercare di rispondere a una domanda tanto per inquadrare proprio il tema della violenza di genere. Innanzitutto che cos'è la violenza di genere? In primis è una violazione dei diritti umani, questo lo dice la Declarazione dell'ONU. Poi mi faccio riferimento anche alla Convenzione di Istanbul che voi sapete che è un po' il punto di riferimento rispetto appunto agli stati che l'hanno hanno aderito alla Convenzione appunto riguardo il tema della violenza di genere. Questa è una manifestazione secondo la Convenzione di Istanbul che io sono in accordo completo, è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra uomini e donne. quindi le radici in sostanza della violenza di genere si collocano nella storica diciamo disparità di potere tra uomini e donne nei diversi contesti non solo in quello privato ma anche in quello pubblico. Quindi violenza è innanzitutto una questione culturale e è un fenomeno come diceva in apertura Catina è un fenomeno molto complesso quindi occuparsene significa occuparsi proprio di tutti i fattori che la determinano. In primis le discriminazioni agite sulle donne che sono alimentate e che alimentano al contempo una cultura disparitaria con relazioni di potere appunto asimmetriche. Per sradicarla deve essere affrontata con un progetto a lungo termine a tutto campo a partire dall'informazione dalla sensibilizzazione dalla prevenzione dalla formazione e anche chiaramente dalla protezione delle donne che hanno subito violenza nelle sue varie forme. Secondo un approccio multidisciplinare anche questo è stato già anticipato questo è fondamentale essendo un tema così complesso richiede assolutamente il contributo di molte discipline è impensabile pensare di affrontare questo tema solamente con un approccio di un tipo quindi questo è assolutamente da mettere in evidenza. La violenza di genere quindi non è assolutamente una questione emergenziale come talvolta viene percepita magari a seguito di alcuni fatti di cronaca molto impattanti sull'opinione pubblica ma invece appunto è una questione strutturale e molto radicata e quindi su questo bisogna riflettere per poter intervenire in maniera adeguata. Alcune caratteristiche brevemente specifiche del fenomeno della violenza di genere innanzitutto essa abita la famiglia abita le case abita gli affetti abita le relazioni appunto amicali è un'emergenza sociale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che le donne tra i 14 e i 50 anni per queste diciamo targhe di donne è la prima causa di morte altra caratteristica è la totale trasversalità del fenomeno quindi non esiste l'identikit del soggetto dell'uomo che agisce violenta anzi sappiamo ci sono uomini che funzionano benissimo professionalmente e che invece all'interno del mure domestico nelle relazioni affettive purtroppo agiscono forme di violenza nelle loro varie dimensioni ancora ad oggi la violenza è considerata un fatto privato e quindi questo cosa produce produce un isolamento della vittima un altro tema sicuramente su cui bisogna riflettere ad oggi non c'è nemmeno una consapevolezza collettiva del fenomeno anche se le cose stanno cambiando comunque c'è molto ancora da fare su questo piano e una battuta permettetemi sul ruolo dei media che ancora purtroppo accade che in genera non la cosiddetta vittimazione secondaria ovvero nel raccontare i fatti di cronaca spesse volte il focus è sul comportamento delle donne e non su quello di chi ha agito la violenza anzi minimizzando il comportamento quasi giustificandolo su questo insomma ci sarebbe molto da fare ancora ad oggi sentiamo parlare di raptus come diciamo il fattore scatenante del comportamento violento quando sappiamo benissimo che raptus non è però ancora viene utilizzato tantissimo dai giornalisti bene il webinar di oggi come è stato già detto il focus è quello dell'approccio della valutazione cioè l'approccio valutativo che viene sia auspica venga attivato anche in tutte le diciamo gli ambiti che coinvolgono la violenza di genere come è stato detto gli ambiti sono molti perché è un percorso è un processo quello della violenza che inizia talvolta con delle manifestazioni molto soft per poi insomma arrivare a varie diciamo manifestazioni quindi è da capire come lo strumento della valutazione possa aiutare a contrastare il fenomeno della violenza sappiamo che in Italia non esiste una situazione omogenea perché le regioni si occupano di chiaramente implementare quello che è di realizzare il piano nazionale sulla violenza e quindi ogni regione ha dei suoi finanziamenti ha una sua struttura e quindi ogni regione cerca di rispondere come crede anche come scelta politica di policy però abbiamo una situazione un po' a macchia di leopardo quindi l'obiettivo è un po' quello di questo pomeriggio quello di comprendere assieme attraverso gli interventi delle relatrici e del relatore cosa si fa attraverso la valutazione e cosa magari si potrebbe fare anche nei diversi ambiti cioè quelli appunto quelli delle policy quindi nelle scelte strategiche che vengono attuate a livello regionale o comunque insomma anche a livello magari più più micro a seconda insomma di come si strutturano le varie regioni per quanto riguarda servizi a supporto delle donne quindi quando essi vengono implementati come funzionano cioè che tipo di valutazione può essere attuata in questo ambito e poi la parte il focus è quello appunto di chi agisce violenza quindi degli offenders quindi capire la valutazione del rischio sia in una prima fase oppure nella fase di fuoriuscita della donna dal rapporto violento quindi questi sono i tre ambiti che verranno presi in considerazione quindi possiamo iniziare con il primo intervento con il professor Marco Accortini Accorinti scusa la figura di Simonetta nel nome è docente presso il dipartimento di scienze della formazione Università Roma 3 ricercatore associato CNR e Ips con lui appunto verrà sviluppato cioè ci racconterà un po' il suo diciamo lavoro di ricerca che ha effettuato sul caso studio del comune di Pescara giusto proprio in un'ottica valutativa questo lavoro che è stato fatto dal professore in particolare ci dirà anche quello che è emerso per quanto riguarda l'impatto sociale il valore sociale prodotto proprio dalle iniziative che sono state implementate in questo territorio in attuazione poi anche del piano nazionale sulla violenza di genere quindi prego grazie sono partiti i miei minuti a disposizione sono molto contento e ringrazio in particolare Catrina e Monica ma non soltanto perché è la prima volta che ho come dire l'onore di portare un contributo a questo gruppo tematico dell'AIV altre volte sono stato coinvolto ma nella qualità di moderatore quindi Simonetta ti comprendo nella tua difficoltà di tenere tutti e tutte insomma in considerazione devo subito chiedere scusa perché il mio intervento nasce da un'esperienza come giustamente diceva Simonetta molto specifica che non è il mio ambito tradizionale di ricerca ma che nasce all'interno di un contesto che appunto che è quello del Consiglio Nazionale delle Ricerche qui è anche presente Loredana Cerbara che mi correggerà per tutte le settezze che dirò in particolare nell'ambito appunto dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali e questo è un primo elemento in premessa che va detto cioè chi si occupa di valutazione almeno a livello nazionale quali istituzioni pubbliche si occupano di valutazione per quanto riguarda la violenza e la violenza di genere è una premessa in qualche maniera obbligatoria perché in realtà sappiamo bene chi si occupa di questi argomenti che l'Istat come istituto di statistica in collaborazione e per conto del Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri attua una serie di indagini che descrivono il fenomeno sia dal punto di vista delle vittime sia dal punto di vista degli offenders sia dal punto di vista degli interventi e delle strutture che come sistema paese sono state messe in atto nell'ambito del più complessivo sistema di welfare ma l'Istat da mandato non può fare attività valutativa e allora in questo la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri da alcuni anni ha assegnato al Consiglio Nazionale delle Ricerche in particolare ad alcuni istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche un'attività di non solo di cognizione ma anche di analisi valutativa il CNR e l'IRPS in particolare ha avuto fondamentalmente quattro commesse di studio in ottica valutativa proprio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri le cito ma vado molto veloce una primissima è stata sulle donne elette in politica poi spiegherò perché c'entrano era il 2016 una seconda esperienza è stata sulle misure di contrasto e al o comunque di sulla sicurezza del lavoro un'esperienza che è stata poi ripresa da una commissione del Senato della Repubblica e sto parlando degli anni 2016 e 2018 per poi confluire nel 2017 in un accordo quadro tra appunto il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza e l'Istituto di Ricerca nell'attuazione di un progetto che è il progetto che l'acronimo è VIVA che sembra un po' è viva ma in realtà è anche essere vive che è l'acronimo di un progetto più ampio il cui titolo è analisi e valutazione degli interventi di prevenzione nel contrasto alla violenza contro le donne allora non sono io che ho lavorato in questo progetto il progetto come dicevo è stato avviato nel 2017 è attualmente in vigore in azione uno degli ultimi deliverable rapporti prodotti riguarda proprio i punti di forza le criticità della strategia nazionale sulla violenza maschile contro le donne per gli anni 2021-2023 il CNR e l'IRPS in particolare studia a partire dai diversi assi all'interno del quale si è articolato il piano nazionale 2021-2023 che come sappiamo sono la prevenzione la protezione e il sostegno il perseguimento e la punizione e l'assistenza e la promozione oltre che la cooperazione internazionale su questi cinque assi 4 più 1 in realtà le priorità poi vengono messe in atto come giustamente diceva Simonetta in un quadro nazionale però dalle regioni e allora in questo questa lunga premessa è per arrivare a dire il lavoro che abbiamo fatto appunto con la collega Loretana Cerbara che riguarda in particolare la regione Abruzzo la regione Abruzzo ha chiesto all'IRPS un'attività specifica di approfondimento perché? ma in realtà perché l'esperienza nasce prima dell'attenzione del dipartimento pari opportunità nazionale e la regione Abruzzo si era già impegnata nel costruire un sistema di valutazione della propria attività chiedendo appunto al CNR un'attività di scientifica di sviluppo di servizi di supporto e di analisi dei dati non entro nell'argomento però all'interno di questo una proposta che è stata fatta è stata appunto quella che accennava Simonetta Fedrizi prima che è quella di analizzare in particolare l'attività svolta dai CAV dai centri antiviolenza non devo qui spiegare che cosa sia un CAV ho già preso quasi la metà del mio tempo a disposizione e quindi vorrei arrivare appunto agli elementi valutativi ma nel corso del duemila questo non sono io però va bene nel corso del duemilaventuno mi sono perso no nel corso del duemiladiciotto è iniziata questa attività di ricerca che ha in particolare analizzato l'impatto quindi ha voluto valutare l'impatto sulla società dell'attività del regione Abruzzo in misura del contrasto appunto alla violenza di genere in questa in questa azione mi è stata assegnata l'incarico una domanda cento milioni di non so che qual è la valuta più pregiata di come misurare l'impatto sociale dei centri antiviolenza e su questo abbiamo definito alcune scelte di fondo considerando fondamentalmente che cosa cioè considerando studiando alcuni elementi dei CAV per definire le condizioni le variabili e anche le scelte e i ragionamenti praticati da chi si occupa di violenza di genere nel proprio intervento in un contesto socio-economico dato la seconda scelta metodologica è stata quella di non sentire direttamente gli operatori che comunque erano oggetto di altre indagini e altri approfondimenti ma gli attori del territorio che con i centri antiviolenza erano e sono in relazione dal punto di vista pratico la regione Abruzzo si è concordato di iniziare questo tipo di attività valutativa di ricerca valutativa con la città di Pescara perché Pescara perché Pescara sembrava che aveva già dal 2005 costituito un'attività di contrasto alla violenza di genere e quindi aveva da tutto vista storico una presenza molto importante di iniziative di vario genere genere lo devo utilizzare in un altro contesto comunque di vario tipo per proprio misurare la violenza e contrastare la violenza di genere e in più la città di Pescara in particolare l'ente locale cioè il comune aveva un'attività anche a prescindere dai fondi che arrivavano attraverso la regione Abruzzo dal piano nazionale e quindi si era si è impegnata in maniera autonoma fondamentalmente quindi è stata scelta questa città come ambito di attenzione e quindi è stato studiato chi rispetto al centro di violenza di Pescara operasse in collaborazione per il contrasto alla violenza fondamentalmente sono state realizzate delle interviste interviste che sono state svolte durante il 2020 ora viene facile ricordare che tutto ciò che era stato pensato in presenza con una attività di diretta rilevazione sul campo non è stato possibile farlo la distanza ha favorito anche la possibilità di prendersi un tempo maggiore magari e fortemente dedicato all'attività di ricerca ma sappiamo anche che il periodo del covid è stato un periodo molto particolare per la violenza di genere per cui anche le persone che sono state intervistate erano fortemente impegnate proprio nel contrasto e nell'aiuto e nel sostegno dell'iniziativa i dirigenti funzionari che sono stati intervistati per bellicito in maniera veloce l'azienda sanitaria locale il consultorio la Caritas di Pescara Penne la città di Sant'Angelo il comando provinciale dei Carabinieri il comune di Pescara la cooperativa sociale Orizzonti l'IPSAR l'istituto professionale la procura della Repubblica e alcune esponenti delle forze dell'ordine in particolare della questura e della prefettura la scelta di questi di questi persone che sono state intervistate ha riguardato quella che Simonetta Fedrizi descriveva come questione strutturale la violenza di genere e in questo sono stati fondamentalmente quattro i focus della ricerca valutativa il primo è proprio quello di considerare come il contesto di Pescara in qualche maniera produceva misure di contrasto o meglio o alternativamente si diffondesse una cultura invece maschilista macista violenta e quindi in questo molto importante è stata l'analisi delle azioni svolte a livello cittadino in particolare con un tavolo di collaborazione tra tutte le realtà che operavano il secondo focus ha riguardato invece la programmazione la gestione degli interventi e dei servizi che come CAV venivano messi in atto in particolare tutte le misure di prevenzione in ambito scolastico e in particolare per quanto riguarda i minori vittime dirette oppure assistevano a forme di violenza e la possibilità dell'inserimento scolastico degli stessi in casi di percorsi protetti il terzo focus ha avuto un'attenzione particolare alla cittadinanza cioè tutto ciò che come CAV è stato prodotto in termini di diffusione delle misure di contrasto e di conoscenza dei percorsi di uscita dalla violenza l'importanza dei ruoli scusatemi e del ruolo degli attori istituzionali è stato il quarto focus valutativo di fatto appunto riprendendo proprio quanto previsto dalla convenzione di Istanbul già introdotta la Simonetta Fredirizzi che la Pescara si è caratterizzata per essere un uno un contesto in cui la prevenzione per la prevenzione della violenza ci si adopera per promuovere programmi e attività destinati ad aumentare il livello di autonomia e di emancipazione delle donne e allora su questo tutte le misure legate all'abitare all'inserimento lavorativo sono state per questo studiate come esperienze arrivo alle conclusioni manca un minuto e mezzo l'analisi valutativa condotta a Pescara ha fatto sì che si potessero definire 15 indicatori di azioni che il CAV il centro di antiviolenza possa attuare o meglio 15 indicatori per misurare l'intervento del CAV in termini di impatto sulla società o comunque di impatto sociale delle attività svolte quindi non soltanto l'intervento sui singoli sulle singole donne oggetto di violenza ma più in generale che abbia un respiro appunto come diceva Simonezza di tipo culturale più ampio tra questi 15 sempre andando veloce la capacità di offrire risposte tempestive la presenza di una rete riconosciuta e sedimentata e nota tutti la formazione specifica per tutti coloro che si occupano di violenza di genere e che sia comune la disponibilità di soluzioni alloggettive in tempo reale la sensibilizzazione e le azioni di comunicazione sul tema l'impegno dei policy maker nel contrastare la violenza che altro ce ne sono altri la presa in carico delle donne insieme ai figli e l'inserimento scolastico sono state proprio degli elementi che fanno sì che i ragionamenti e gli interventi dei centri di attivinenza abbiano un valore e un valore di tipo sociale finisco termino come è andata avanti ecco qui devo dire c'è stato un pochino di delusione come molto spesso capita a chi cerca di fare valutazione per produrre un cambiamento la regione la regione abruzzo che doveva poi replicare lo stesso modello di analisi valutativa anche negli altri quattro contesti cittadini non ha deciso di non proseguire su questo di fatto appunto l'esperienza ha prodotto un articolo su una rivista sociologica la difficoltà di chi compie valutazioni su temi consentitemi un po' scontanti e sulla capacità di riuscire poi dopo a incidere sul disegno delle politiche questo è uno delle maggiori frustrazioni che personalmente credo di condividere anche con altri sono stato forse troppo veloce sono andato anche fuori due minuti mi scuso con le colleghe che mi seguiranno grazie dell'intervento sicuramente mi ha fornito numerosi spunti di riflessione e io direi di andare avanti con il secondo intervento che così riusciamo un po' a chiudere un po' il cerchio in maniera tale poi magari da condividere alcune riflessioni più complessive allora adesso interviene Laura Castegnaro che è dirigente dell'unità pari opportunità prevenzione della violenza della criminalità della provincia autonoma di Trento e grazie anche Laura per il suo intervento che avrà come focus proprio l'esperienza della provincia autonoma di Trento e partendo dalla normativa appunto che essendo provinciale è stata messa è stata posta in essere proprio a livello provinciale per il contrasto alla violenza per poi appunto descontare un po' più nello specifico e ci illustrerà appunto come si è sviluppata la rete dei servizi antiviolenza nella provincia e come funziona e come è stato avviato appunto uno strumento di valutazione quindi ci racconterà un po' questa questa esperienza a te Laura la parola grazie buonasera a tutte e a tutti è un piacere aver raccolto l'invito dell'avvocato Fidrizi e della dottoressa Balotta questo momento di condivisione momento che ho voluto aprire anche alle persone che lavorano con me nell'unità organizzativa che si occupa tra l'altro anche di contrasto e di prevenzione della violenza sulle donne quindi oggi collegate con me ci sono vari colleghe che hanno formazioni diverse e multidisciplinari quindi ci sono due criminologhe una giurista una psicologa un'assistente sociale quindi abbiamo un pubblico molto vario e questo proprio per rispondere al discorso anche introduttivo che ha fatto l'avvocato Fidrizi sulla trasversalità anche del fenomeno è un fenomeno quindi che deve essere visto da più punti di vista per poter riuscire a individuare delle risposte adeguate due parole di introduzione sul contesto in cui lavoriamo comunità di missione e di prevenzione della criminalità e della violenza quindi provincia autonoma di Trento una provincia piccola attiva dove esiste una rete istituzionale ma non solo molto presente e dove anche la politica a prescindere dal colore che ha avuto nel tempo però ha sempre dimostrato una grande attenzione e questo un po' come è accaduto in Abruzzo ma anche da noi ha permesso di fare dei pensieri approfonditi quindi anch'io cerco assolutamente di stare nei tempi ho preparato delle slide andrò molto velocemente nella presentazione per poi concentrarmi ok sul proprio sul concetto della valutazione e quindi qual è il contesto generale da giurista una deformazione professionale ma per me è proprio il quadro dove possiamo operare anche come unità organizzativa provinciale quindi abbiamo una legge specifica dedicata che per la provincia autonoma di Trento è l'espressione di una competenza legislativa primaria esclusiva quindi vuol dire che abbiamo un ambito anche di operatività importante che ci permette di fare pensieri e costruire anche delle politiche specifiche abbiamo anche però degli strumenti non solo legislativi ma anche di accordo di protocollo che sono condivisi da praticamente tutte le istituzioni sia locali che nazionali che lavorano sul nostro territorio protocollo che è stato rinnovato da poco e soggetti particolarmente importanti all'interno del protocollo sono le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria la loro presenza ci permette di lavorare in piena sinergia per aiutare effettivamente poi le donne quando ormai si ritorna una situazione di effettivo bisogno di tutela abbiamo delle linee di indirizzo che hanno avuto un inter di grande condivisione con tutti i soggetti che lavorano sul nostro territorio e in questo documento di linee di indirizzo sono raccolte le politiche e le azioni sulla base di una struttura che ricalca assolutamente quella del piano nazionale e della linea strategica del dipartimento pari opportunità partiamo da un presupposto e cioè che per capire esattamente cosa la nostra amministrazione insieme a tutte le altre nell'ambito di una rete possa fare è necessario partire da dati oggettivi quindi una delle nostre priorità è quella tramite l'osservatorio dei dati che gestiamo provinciale di raccogliere i dati che caratterizzano il fenomeno quindi ogni anno noi usciamo con un documento di raccolta di questi dati che raccoglie quindi dati relativi a ammonimenti denunce in particolare qui vedete un breve spaccato ma poi le slide se le desiderate sono assolutamente a disposizione che dimostrano come nel tempo è interessante che questa raccolta poi venga ormai da vari anni da più di decenni quindi abbiamo anche un trend che ci permette di capire la flessione del tempo e quindi vi ripeto abbiamo quindi uno spaccato sulle denunce gli ammonimenti e vediamo che circa quindi abbiamo 1,6 al giorno di denunce ammonimenti che riguardano il nostro territorio ecco per anche riguardo agli altri dati ci mettiamo assolutamente in linea con il contesto nazionale né più né meno siamo nella media e raccogliamo anche i dati relativi alle utenti delle nostre strutture dei nostri servizi residenziali quindi donne che devono lasciare la loro casa per avere un sostegno residenziale sono circa un centinaio all'anno insieme ai loro figli che sono un numero ancora maggiore e donne anche che frequentano i nostri centri antiviolenza e l'ultimo dato che però nell'anno precedente nell'anno scusate questo va appena passato perché i dati sono del 22 che vediamo qui ma nel 23 hanno subito un forte incremento sono circa 360 le donne ecco per darvi un termine in Trentino vivono circa 550 mila persone siamo una realtà territoriale piccolina per cui questo dato ha un significato anche perché sappiamo che rappresenta solo una minima parte dell'effettivo fenomeno abbiamo anche un servizio specifico per gli uomini maltrattanti e qui abbiamo avuto 22 persone che sono state intercettate da questo servizio nell'anno 2022 mappiamo anche i dati di accesso al pronto soccorso e oltre a questo cerchiamo anche di aiutare gli operatori con una guida una guida molto operativa destinata a carabinieri poliziotti assistenti sociali operatori del terzo settore e anche operatori dell'azienda sanitaria dove sono indicati tutti i servizi che vengono forniti sul territorio a favore delle donne quindi quali sono questi servizi abbiamo due centri di violenza due case rifugio un centro per uomini autori di violenza gestiti tutti i denti accreditati dalla provincia con convenzioni anche questo è un elemento importante siamo come l'Abruzzo fortunati nel senso che la nostra amministrazione mette delle risorse anzi più dell'Abruzzo nel senso che noi non partecipiamo al riparto del fondo nazionale però la nostra giunta provinciale destina un finanziamento che copre tutte le spese di questi servizi quindi sono servizi che sono completamente finanziati dall'ente pubblico ente pubblico che riconosce anche un assegno di autodeterminazione a favore delle donne l'accesso a un fondo di solidarietà collegato al risarcimento del danno morale oltre a altre interventi di politica attiva del lavoro della casa e anche interventi sanitari specifici facciamo tantissima formazione per tutti gli operatori su questo abbiamo acquisito una certa esperienza perché è da anni che la svolgiamo e copriamo davvero operatori sia del pubblico che del privato sulla sensibilizzazione che prima è stata citata da dottor scusa il nome chiedo scusa che non ricordo non si preoccupi Marco è interessante perché poi ci sono tantissime connessioni tra le attività perché anche noi siamo molto attivi sulla sensibilizzazione e ogni anno cerchiamo di uscire con una campagna che cambia il target abbiamo lavorato sulle donne sulla comunità sugli uomini sulla violenza assistita quindi anche su questo abbiamo un ufficio stampa che ci supporta e l'ultima campagna che ci ha visto attivi è quella informativa abbiamo creato delle piccole dei piccoli pieghevoli da fornire anche alle donne stesse con i numeri di prima emergenza e di primo sostegno abbiamo un sito dove abbiamo tutte le informazioni quindi sia la donna interessata l'amico il familiare ma anche gli operatori possono accedere al sito per trovare tutte le informazioni una rete che come dicevo è molto vasta però ecco abbiamo tutte queste cose era importante secondo me questa premessa di contesto abbiamo molti servizi però ci siamo anche abbiamo anche aumentato molto i servizi nell'ultimo anno sono partiti proprio servizi del tutto nuovi quindi abbiamo avuto un potenziamento però ci siamo chiesti come dare valore a tutto quello che abbiamo nel nostro piccolo territorio virtuoso ne siamo consapevoli anche perché ci sono molti operatori che lavorano con passione con varie professionalità dobbiamo misurare per dare valore a queste cose dobbiamo misurare per capire se quello che abbiamo funziona nell'ottica classica della circolarità della progettazione gestione valutazione ci si ferma funziona o non funziona quello che funziona lo manteniamo quello che non funziona lo riprogettiamo perché sia adeguato e risponde effettivamente ai bisogni delle persone ma anche per proporre cose del tutto nuove quindi dobbiamo trovare dei nuovi obiettivi e individuare degli indicatori cosa abbiamo già fatto alcuni anni fa con l'università di Trento in particolare con una docente di economia la dottoressa Costa abbiamo analizzato un modello del tutto innovativo che abbiamo studiato nel mondo agglossassone grazie a un progetto europeo che è un modello operativo di valutazione dell'alto rischio e di riduzione dei femminicidi e della ricidiva praticamente un tavolo di lavoro dove sono presenti rappresentanti delle forze dell'ordine del mondo sanitario e del mondo sociale sia pubblico che privato che insieme condividono delle informazioni e questo al fine di arrivare in maniera più veloce possibile a dare delle risposte alle donne che si trovano in situazioni di rischio abbiamo cercato quindi di costruire questo modello e di farlo con tutti i crismi scientifici possibili cioè fin dall'inizio partire con degli indicatori con un'individuazione ex ante quindi anche di indicatori obiettivi e di indicatori di outcome di output e di outcome per riuscire poi a operare in maniera metodologicamente corretta vi spoiler ho già a e-mail finale come per l'abruzzo adesso che è intervenuto il covid è intervenuto un cambio di personale nell'ambito della questura in particolare il capo dell'anticrimine ha terminato servizio è andato in pensione per cui questa bella esperienza per ora è in stand by è in sospensione abbiamo però in programma anche una disposizione legislativa che ci chiede di riattivarla quindi questo lavoro sicuramente non andrà in un cassetto ma verrà diciamo valorizzato per riadattarlo come abbiamo lavorato con l'università di Trento abbiamo adottato una metodologia partecipata coinvolgendo tutti gli state codere costruendo con tutti gli state coder che ho indicato prima gli obiettivi indicatori innanzitutto quindi gli obiettivi all'inizio quindi abbiamo individuato degli obiettivi di output per verificare se la metodologia utilizzata di lavoro proprio del gruppo fosse adeguata o meno e che ci consentisse anche di monitorare l'attività quindi l'obiettivo era quello di condividere le informazioni attraverso questo gruppo e abbiamo individuato su un anno solare alcuni indicatori molto semplici però efficaci quindi come numero di schede di valutazione del rischio abbiamo schede semplificate e più approfondite il numero di schede compilate quelle valutate il numero di incontro il numero di schede per incontro i giorni medi di convocazione di questo gruppo di lavoro e quelli intercorsi fra la convocazione e l'avvio delle azioni è interessante sapere anche che questi indicatori sono stati effettivamente usati con un provvedimento pubblico un provvedimento amministrativo abbiamo anche dato atto del monitoraggio svolto e quindi abbiamo anche individuato numericamente quali sono questi indicatori come indicatori di outcome siamo stati più ambiziosi perché l'obiettivo di questa sperimentazione era proprio quella di ridurre come dicevo prima il fenomeno dei femminicidi quindi abbiamo cercato di volare più in alto però ahimè poi la sospensione della sperimentazione non ci ha permesso poi di riuscire a declinare questi indicatori con delle indicazioni proprie obiettive l'elemento però positivo è il ragionamento condiviso quindi coinvolgimento di tutti gli stakeholder per arrivare a questa definizione e anche l'indicazione di chi deve fare che cosa quindi l'ultima colonna che vedete dell'agenzia proposta al monitoraggio non è stata facile da compilare ma è stata fondamentale per capire poi la regia in mano a chi era per la raccolta di questi elementi quindi questa è una sperimentazione mi avvio verso la conclusione per dire che non ci siamo fermati qui nonostante questa sospensione di questo progetto metodologicamente molto bello abbiamo lavorato intanto sul monitoraggio dei servizi in essere quindi già nelle convenzioni che legano la provincia autonoma accoglienti che gestiscono i servizi abbiamo indicato all'interno proprio l'obbligo per questi gestori dei servizi di fornirci periodicamente una reportistica dei dati che ci prometta di capire se il servizio viene gestito in maniera adeguata o meno quindi monitoriamo in questo modo l'andamento delle attività e cerchiamo di analizzare anche i fabbisogni abbiamo dei gruppi tecnici che periodicamente si trovano e le colleghe che sono qui presenti con me in particolare coordinano anche proprio questi gruppi e sono minimo una riunione ogni tre mesi e permettono di avere quindi sempre il posto della situazione di come stanno svolgendosi servizi e chiudo con la prospettiva futura non vogliamo assolutamente fermarci quindi vorremmo fare un'analisi intanto con le nostre forze interne all'unità organizzativa poi verifichiamo e questo anche è uno stimolo questo webinar quindi ho colto l'invito però ne pongo anch'io uno a voi di riuscire magari a darci delle sollecitazioni e delle indicazioni dei suggerimenti per poter svolgere anche un'attività che vorremmo fare per analizzare valutare gli interventi sui servizi residenziali e servizi residenziali che come dicevo sono finanziati completamente dall'ente pubblico e quindi c'è anche una responsabilità etica da parte dell'ente pubblico di verificare che effettivamente le risorse della comunità sono investite in maniera adeguata grazie grazie Laura siete stati bravissimi dentro i tempi perfetti anche perché davvero ci sono tante cose no mi viene da fare un'osservazione perché ci sono delle analogie tra l'esperienza dell'Abruzzo e del Trentino avete avviato tutti nei due casi questa attività insomma di valutazione però ragioni insomma diverse hanno subito un po' questo questo stop però credo che la sfida proprio quello che dicevi della metodologia partecipata di stakeholder engagement cioè se vogliamo andare a capire qual è l'impatto sociale non possiamo prescindere da questa metodologia che coinvolge appunto tutti gli stakeholder prima parlavamo di quanto la violenza di genere sia un fatto collettivo che sia qualcosa che deve uscire dalle case dalle relazioni diciamo affettive e quindi necessariamente per essere sconfitta coinvolgere una collettività una responsabilizzazione collettiva quindi credo che questo metodo che ha allustato appena adesso la dottoressa Castegnaro e che è stato in maniera diciamo analoga utilizzato anche in Abruzzo mi pare di aver capito credo che questa sia un po' la strada se vogliamo appunto superare un tema che non è appunto individuale ma è collettivo questi sono anche occasioni per creare anche relazioni tra soggetti che hanno delle competenze specifiche per poter anche come dire condividere delle soluzioni condividere meglio magari non delle soluzioni ma degli strumenti per migliorare il proprio operato quindi insomma sarebbe anche bello capire a distanza di qualche tempo se questi strumenti poi vengono implementati e che tipo di risultato possono avere condividere anche i risultati comunque magari poi insomma se ci sarà tempo potremo potremo approfondire con chi si occupa proprio di valutazione bene ora proseguiamo con la terza relazione di Margherita Carlini criminologa forense esperta in psicologia giuridica psicologa clinica e psicoterapeuta quindi adesso il focus è quello della valutazione sul soggetto che ha agito violenza la valutazione del rischio in ordine proprio agli offenders nelle varie fasi del rapporto perché chiaramente sappiamo benissimo che il rapporto violento ha tutta una serie di fasi quindi la valutazione del rischio diventa oltremodo strategica per poter poi proteggere la donna che ha subito violenza che magari in una fase di valutazione di decisione meglio di rivolgersi alle forze dell'ordine per fare una denuncia poi sappiamo insomma che i comportamenti delle donne che hanno subito violenza subiscono insomma numerose come dire pressioni per cui tante volte poi denunciano ritirano la denuncia insomma quindi credo che questo fattore del rischio la valutazione del rischio di chi ha agito o che insomma è una situazione di pericolo la donna deve essere insomma molto approfondito questo aspetto quindi io passo la parola a Margherita Carlini Sì buonasera a tutte e tutti grazie a voi per l'invito per questa opportunità in effetti rispetto ai relatori al relatore alla relatrice che mi hanno preceduto io faccio parte come dire dei soggetti che avete studiato quindi chi è attivamente a contatto diretto con la donna e e l'intervento perché ovviamente la premessa è che sono anche operatrice di un CAV di un centro antiviolenza da sempre insomma ho scelto come dire di orientare la mia attività professionale nel lavoro a sostegno delle donne quindi anche per quanto mi sembra una premessa doverosa che anche per quanto riguarda la valutazione del rischio che chiaramente è una valutazione della pericolosità dell'offender ma è una valutazione che noi facciamo attraverso la narrazione quindi riferito della donna come centro antiviolenza poi è chiaro che negli ultimi anni con la come dire sempre più diffusa presenza dei CUAV sui territori questa attività di valutazione del rischio può essere chiaramente posta in essere sia da noi operatrici dei centri antiviolenza che dagli operatori dei appunto dei centri per gli uomini autori di violenza vi presenterò quindi questo strumento molto brevemente visto insomma cercando di stare nei tempi ma più che altro quello che mi interessava era spiegare la valenza e la validità di questo strumento che nasce appunto come strumento di valutazione del rischio di recidiva di escalation delle condotte maltrattanti e persecutori all'interno delle relazioni di intimità ma nella mia esperienza personale ha all'interno del percorso che la donna compie molteplici valenze e credo che sia se ne è parlato appunto nelle relazioni precedenti uno strumento molto utile anche all'interno delle attività di rete è un po' se ho ben capito l'intento del lavoro che appunto che è stato fatto nella provincia di Trento che chiaramente come dire io dico sempre la valenza forse più alta ma ancora a livello concreto topistica del SAR è proprio quello di poterlo utilizzare all'interno della rete antiviolenza in modo che chi conosce lo strumento sa che in realtà è composto da una serie di fattori che afferiscono a professionalità come è stato detto perché è chiaro che il lavoro nella violenza è un lavoro multidisciplinare e quindi la possibilità che sia una valutazione fatta in maniera passatevi in termine corale chiaramente porterebbe a un risultato a una validazione maggiore dello strumento stesso per quanto riguarda gli strumenti di valutazione del rischio nella letteratura scientifica ne esistono tantissimi quello che noi utilizziamo come centri antiviolenza un po' a livello nazionale è il SARA che è uno strumento che è stato portato in Italia nel 2005 dalla professoressa Anna Costanza Bondri portato e con infatti pensavo allo studio che appunto era stato fatto con una campagna di sensibilizzazione di formazione importantissima rivolto proprio agli operatori della polizia perché come dire l'intento iniziale era quello di far sì che le donne che andavano a fare denuncia nel frattempo venisse effettuata con lo strumento alla mano una valutazione del rischio per chiaramente una codifica più corretta del caso e un invio più corretto e tutelante della donna e dei minori io ho avuto la fortuna di lavorare con la professoressa Boldri in quegli anni in realtà poi anche qui l'intento iniziale è stato un po' perché effettivamente all'interno delle reti antiviolenza chi si occupa prevalentemente della valutazione del rischio è proprio il centro antiviolenza ma per una serie di motivi primo tra tutti credo anche proprio quello della necessità di avere un tempo dedicato alla donna per effettuare una valutazione che sia effettivamente completa e corretta perché la somministrazione di alcuni item richiede appunto un tempo un tempo in senso concreto ma anche il rispetto del tempo della donna sappiamo che noi lavoriamo con donne che hanno subito subiscono ancora traumi e quindi il ricordo e la narrazione di alcuni soprattutto di alcune forme di violenza non è così semplice ed immediato e quindi ovviamente questo richiede anche a mio avviso di stararsi di una relazione d'aiuto che possa aiutare la donna a portare all'immersione di determinati fatti il ZARA come strumento è utilissimo come dicevo innanzitutto per effettuare quella che è una valutazione del rischio che la donna e i minori forrono chiaramente in prima battuta per strutturare una corretta codifica del caso che non è sempre scontato perché per quella che è la mia esperienza c'è ancora una fortissima tendenza alla minimizzazione della violenza non a lettura della violenza e quindi avere uno strumento così snello e così fruibile perché gli item sono veramente semplicissimi e anche la loro somministrazione è veramente semplice credo che sia utile a tutti gli operatori e le operatrici che a diverso titolo interfacciano con la donna per effettuare una pronte di immediata codifica anche non producendo una valutazione del rischio tanto che nelle linee guida sanitarie sono state inserite nel 2019 poi diventate operativi nel 2020 5 item afferenti appunto al SARA che l'operatore sanitario che interviene in pronto soccorso con la donna deve somministrare proprio per aiutarlo ad un o ad aiutarla ad un invio che sia corretto quindi serve in prima battuta per fare una valutazione che noi definiamo primaria quando la violenza fisica non è ancora stata agita quindi una valutazione che ha uno scopo preventivo o una valutazione secondaria quindi quando la violenza fisica già c'è stata per andare appunto a prevenire i reterazzi di quelle condotte o l'acuirsi fino ad arrivare anche a a condotte di tipo letali peraltro vediamo purtroppo nel fenomeno della violenza maschile contro le donne quanto il femminicidio sia spessissimo associato all'omicidio al suicidio del scusate al suicidio del maltrattante ma anche all'omicidio al figlicidio e quindi ancor più è fondamentale che la valutazione sia estesa non solamente diretta non solamente alla donna ma a tutte a tutte le persone che in qualche modo vengono coinvolti noi sappiamo che la violenza è pervasiva quindi coinvolge tutto coinvolge i figli ma ad esempio quello che dico sempre pensiamo ad una donna che magari non ha figli ma che è tornata dai propri genitori per per allontanarsi dal maltrattante che magari si è rifugiata da un'amica ecco magari in questi casi la valutazione andrebbe estresa anche a questi soggetti che molto spesso vengono diventano obiettivi di quella violenza è uno strumento che ha una validità a mio avviso fondamentale sia in ambito penale ma anche in ambito civile si è riparlato si è parlato di rivittimizzazione delle donne io faccio questo lavoro da ormai più di 15 anni quello che dico sempre che quando è iniziato la fatica più grande per noi era portare la violenza portarla in un contesto giudiziario far sì che la donna che era vittima di violenza magari non solamente fisica riuscisse a portare a dimostrare quella violenza se è parlato di emersione oggi le donne denunciano molto di più afferiscono ai CAV molto di più rispetto che non 15 anni fa ma la rivittimizzazione di cui si è parlato avviene ancora nei contesti penali soprattutto nei contesti civili dove non lo dico io ma sono state fatte ricerca a livello nazionale e internazionale c'è una totale non lettura della violenza perché noi abbiamo un risultato che ci dice che secondo i nostri tribunali il 90% delle separazioni in Italia è consensuale questo vuol dire non avere la capacità di leggere la violenza di riconoscerla perché è un dato inverosimile impossibile che non corrisponde coi dati delle denunce coi dati degli accessi a CAV che come è già stato detto sappiamo sono comunque sottostimati rispetto all'entità la quantità del fenomeno quindi l'utilizzo di questo strumento che non l'ho detto ma si presenta in varie come dire versioni quella che noi utilizziamo più frequentemente è la versione skinning che consta di dieci fattori di rischio che sono afferenti a caratteristiche del reo contesti di relazione e cinque fattori di vulnerabilità che invece fanno riferimento a quelle che sono le conseguenze che la violenza ha prodotto sulla donna anche questa differenzazione è fondamentale perché è una differenzazione che parte da un approccio che è quello di genere che noi sappiamo che è imprescindibile l'approccio imprescindibile per lavorare con questo fenomeno e che viene utilizzato anche nella distribuzione della responsabilità di chi agisce la violenza quindi parliamo di fattori di rischio quando parliamo del maltrattante di fattori di vulnerabilità come il risultato cioè gli effetti che la violenza ha prodotto sulle donne e questa differenzazione che potrà sembrare una puntualizzazione anche come dire inutile in realtà è fondamentale perché è l'errore che rivittimizza le donne nei contesti civili quando le donne arrivano ad essere valutate come genitrici molto spesso vengono valutate per quelle che sono le conseguenze che la violenza ha prodotto su di loro e quindi molto spesso in questi contesti paradossalmente il maltrattante è quello che risulta più adeguato questo vuol dire non avere una conoscenza del fenomeno e quindi non saper fare una differenza tra quella che è la competenza e il funzionamento della donna rispetto a quelle che sono le conseguenze che la violenza ha prodotto con questo con questa lettura distorta inevitabilmente non tuteliamo nemmeno i minori e questo penso che sia ecco l'aspetto più importante nel quale sul quale dobbiamo lavorare chiudo dicendo che è chiaro che l'utilizzo del Sara è fondamentale anche per comprendere noi che non lo incontriamo che tipo di maltrattante abbiamo di fronte quindi poter fare una previsione di quello che sarà il suo comportamento in termini di tutela della donna e dei minori serve anche tantissimo alla donna per acquisire consapevolezza rispetto alla violenza che ha subito e quindi al rischio che corre perché noi lo sappiamo le donne tendono a normalizzare la violenza e quindi parallelamente a sottostimare il rischio questo è una difesa mi viene a dire anche legittima per chi vive in un contesto traumatizzante cronico e penso che brevemente di avervi detto un po' le cose fondamentali sì credo di sì di avervi detto un po' tutto quindi ecco ah ecco una cosa che volevo aggiungere siccome avete parlato tutti di covid nel periodo del covid che avevamo fatto proprio con la regione con con l'Abruzzo e la regione Puglia un video nel periodo del covid in cui davamo delle indicazioni proprio di massima alle donne rispetto a quelli che erano i fattori di rischio più rilevanti che dovevano ovviamente aiutarle a produrre un'autovalutazione del rischio in quella situazione in cui le donne erano isolate in casa con il loro maltrattante perché il fatto che la violenza di genere fosse una questione emergenziale non era tanto come dire emersa e quindi le donne sono rimaste bloccate dando indicazioni di quelle che erano le attività le azioni da svolgere per mettersi in protezione in un caso appunto di una situazione emergenziale grazie grazie anche alla dottoressa Carlini adesso direi che possiamo dare spazio un po' a se ci sono delle domande Monica tu volevi aggiungere qualcosa allora parto io con la prima domanda che così rompe il ghiaccio visto che allora io ho letto le ultime rilevazioni dell'istat sui centri antiviolenza relativi al 2022 e ho notato questa cosa che le donne che avviano percorsi di uscita sono straniere nel 30,6% dei casi quindi in qualche modo una minoranza allora mi è venuto da chiedermi se le donne straniere non conoscono questi strumenti adesso lasciando in qualche modo da parte tutto quello che è il mondo delle donne vittime di tratta delle donne sia giovani sia anche minori tra l'altro che appunto sono in condizioni particolari se diciamo il mondo delle donne straniere delle donne straniere che vivono regolarmente sul nostro territorio in qualche modo ha una minore conoscenza degli strumenti che sono a loro disposizione se esiste una resistenza anche o una incapacità in qualche modo di accedere a questi servizi senza cadere poi da parte nostra nella lettura nello stereotipo di in qualche modo come dire razzializzare anche il contesto di violenza straniera per cui le donne straniere sono soprattutto quelle che arrivano da paesi terzi sono in una realtà culturale che in qualche modo come dire giustifica sia da parte del maltrattante sia da parte loro l'accettazione di regole anche fatte attraverso la violenza quindi partendo un po' da queste riflessioni la mia domanda specifica può essere intanto se nelle vostre esperienze avete incontrato o incontrate delle donne straniere in quale misura cioè in quale quantità e con quali caratteristiche in qualche modo possono essere hanno queste persone eventualmente incontrate o che cosa si può fare per in qualche modo capire se esiste come mi pare di poter immaginare che esista una realtà come dire sotterranea che noi non riusciamo ancora a leggere e quindi quale potrebbero essere gli strumenti per far emergere questa realtà grazie rispondo a chi vuole nel senso che è una domanda per tutti quanti coloro che sono intervenuti chi vuole prendere parole posso prendere parola certo ciao sono stata nominata un po' di volte la professora Corinti quindi magari mi paleso forse è meglio e vi ringrazio tantissimo per questa interessante occasione proprio di confronto che è importante e veramente anche abbastanza rara su un tema così delicato no perché si pensa sempre prima alle urgenze all'emergenza e poi a prendere decisioni invece strutturali che in qualche modo abbiano un impatto importante e delle conseguenze importanti sia come investimento perché occuparsi di violenza è proprio un investimento in termini sociali ma proprio anche come cambiamento culturale che è quello a cui tutti asperiamo e però insomma facciamo sempre tutti molta fatica e per quello che dice Monica ma senz'altro voi saprete rispondere meglio di me noi attraverso il progetto che è stato già indicato per la regione Abruzza abbiamo avviato un monitoraggio continuo e quindi c'è una rilevazione continua che parte dal 2018 con altri punti temporali precedenti ma insomma ormai sono sei anni di fila che viene fatta in modo sistematico e sempre questa prevalenza di donne italiane che si rivolgono centri antiviolenza è stata registrata e l'incremento di donne straniere si è ottenuto solo migliorando i rapporti con la rete locale e quindi con il pronto soccorso con le forze dell'ordine i servizi sociali del comune dei comuni eccetera quindi non è che le donne straniere non sanno dell'esistenza dei centri antiviolenza però fanno meno ricorso per motivi anche culturali per paura per timori per diversi motivi dipende dalla situazione personale ma quando vengono accompagnate perché in qualche modo si rivolgono a uno dei punti della rete principalmente il pronto soccorso le forze dell'ordine allora anche loro arrivano ad avere la chance dell'uscita dalla violenza perché si rivolgono ai servizi specializzati quindi una delle cose più importanti da fare sul territorio che è stato uno dei temi affrontati anche quando abbiamo fatto la valutazione d'impatto col professor Marco Accorrenti è proprio quello di considerare la rete a livello regionale perché poi tutte queste cose sono gestite a livello regionale quindi la rete è uno dei nodi dei punti chiave l'altra è il monitoraggio la questione dei dati la questione di utilizzare uno strumento di valutazione come il Sara che è qualche cosa di anche nella letteratura non sempre è considerato strumento ottimale ma l'esistenza di quella rilevazione lì è già tantissima è già importantissima noi nelle nostre schede di rilevazione la associamo a una valutazione soggettiva delle operatrici dei centri antiviolenza perché magari è incompleto perché magari è mancante di qualche cosa è troppo rigido probabilmente in alcuni casi ma lo sforzo di rilevarlo in modo continuativo è fondamentale e poi anche ovviamente di osservarlo e di studiarlo quindi il fenomeno è complesso agisce su più piani e tutte queste cose che sono state dette oggi vanno prese in considerazione contemporaneamente molto probabilmente perché i casi di chi si rivolge ai centri di violenza sono tutti diversi i percorsi di uscita sono tutti diversi e l'azione sui maltrattanti anche quella è specifica delle situazioni e dei contesti quindi è veramente una questione complessa e come dice il professore Accorinti anche capire che cosa valutare è già la prima sfida e anche però cominciare a valutare è la prima risposta a questa sfida giuro che non ci siamo messi d'accordo non si giura però è capitato siete in sintonia ma è chiaro abbiamo fatto il lavoro insieme non c'è non c'è segreto su questo non so se Margherita o Laura volevano aggiungere dalla loro esperienza sui dati sulla presenza di donne straniere noi abbiamo registrato un differente accesso ai servizi residenziali e non residenziali e cioè le utenti delle case rifugio sono prevalentemente straniere quindi su 100 circa 70 sono straniere è esattamente l'opposto le utenti dei centri antiviolenza 70 italiane e 30 straniere però secondo me è importante fare una rilevazione non è che su 100 persone che vivono in Trentino 30 sono straniere e 70 sono italiane per cui è tanto cioè che il fatto che ci siano questi numeri è tanta roba e quindi a percentuale è alta se posso aggiungere Laura ricordo benissimo la campagna che si fece anni fa proprio nelle varie lingue dall'arabo proprio per riuscire a intercettare con una campagna molto capillare anche attraverso le associazioni presenti sul territorio che sono punti di aggregazione per le straniere di diverse insomma provenienze quindi anche il lavoro credo di questo tipo poi aiuti anche ad avvicinare le donne straniere nel tempo insomma sono queste sono cose che poi producono degli effetti nel corso del tempo non è immediato ma sì per quella che è la mia esperienza diretta cioè chiaramente mi ritrovo rispetto ai dati c'è a mio avviso chiaramente una motivazione è vero che le donne straniere secondo me hanno più difficoltà a sapere che esiste il centro di violenza cioè comunque c'è ancora una difficoltà a livello di sensibilizzazione di informazione quello che dicevo prima cioè quello che noi abbiamo fatto in questi 15 anni per le donne italiane chiaramente non è arrivato alle donne straniere perché è anche vero che tutto quel lavoro di tradurre il materiale informativo è di recente attività questo dobbiamo rispetto al lavoro di sensibilizzazione che facciamo con le italiane che è stato fatto con le italiane e e quindi sicuramente c'è una difficoltà di questo tipo c'è anche una difficoltà di tipo culturale e sono moltissime di più le donne che vanno direttamente in protezione perché quelle vanno in protezione in una situazione emergenziale cioè perché magari afferiscono al pronto soccorso piuttosto che alle forze dell'ordine c'è una necessità c'è una maggior difficoltà a avere una rete personale che possa garantire una tutela una sicurezza e quindi la messa in sicurezza diventa l'unica soluzione possibile le poche che arrivano al centro antiviolenza comunque prevalentemente poi dipende anche dalle etnie ma arrivano perché magari seguite dal servizio per problematiche di tipo economica abitative quindi il servizio rileva o comunque sia dubita di una situazione di maltrattamento e le invia al centro antiviolenza però per quella che è la mia esperienza chiaramente sì lavoro con le donne vittime di violenza devo dire che ultimamente mi è capitato anche di lavorare con ragazze solo pakistane porto l'esperienza costrette a matrimoni obbligati e quindi qui dovrei aprire un'altra parentesi sulla difficoltà del lavoro con queste ragazze però poi è anche più difficile il lavoro inevitabilmente per una questione di fattori culturali e di dinamiche anche comunitarie sul territorio poi chiaramente ogni etnia è diversa non si può fare una generalizzazione però grazie ci sono altre domande? io volevo aggiungere una cosa a quello che è stato detto la definizione di violenza ha sicuramente una valenza operativa ne so se uno prende botte sicuramente ha subito violenza però la definizione di violenza ha una dimensione culturale e anche sociale quindi probabilmente la tolleranza il livello di tolleranza di certi tipi di violenza è socialmente indotto la violenza verbale dipende dalle lingue e dipende da chi le usa e da che abitudine c'è a sentire dire o non dire certe cose e anche la definizione di ciò che è violenza e di ciò che non lo è è socialmente condizionato quindi noi italiani o italiane in questo caso possiamo ritenere violenza verbale certe cose in un'altra cultura in un'altra etnia la stessa identica cosa non è una violenza verbale il problema è che la violenza ha un escalation per cui è vero il livello di tolleranza si alza molto e le donne straniere che arrivano sono quelle che vengono massacrate di botte poi chiuso qua l'altra cosa che mi veniva da dire e che è una cosa però su cui io rifletto da un po' è il tema dei soggetti che sono i segnalatori di questi eventi difficili tendiamo sempre a considerare stakeholder di questo sistema rete le istituzioni i gestori dei servizi quali ad esempio le cooperative che già ne sanno un po' di più perché lavorano sul territorio i carabinieri che però non ne sanno mai nulla e gli ospedali che però dipende da chi lavora in un ospedale che sensibilità ha e come è stato formato sono questi i segnali arrivano da lì in realtà probabilmente potremmo pensare ma è una mia idea a una mappa di soggetti sul territorio che sono segnalatori più forti di questi problemi che sono persone che ne sanno più di più perché intercettano il problema a livello informale ma una comunicazione informale è più facile agirla di una comunicazione formale cioè una mamma che prende botte lo dice più facilmente al panettiere all'estetista al parrucchiere e a volte alla maestra dei suoi bambini ad esempio io non sottovaluterei la scuola le maestre dei bambini sanno molte cose io sono tra le altre cose la presidente di una fondazione che gestisce i servizi per l'infanzia e gestisce due asili per l'infanzia allora le maestre degli asili sanno dei bambini molto piccoli tra i 3-6 anni i bambini dicono qualunque cosa qualunque cosa succede a casa il giorno dopo i bambini lo raccontano alla maestra quindi io credo che potrebbe essere interessante proprio anche a livello di lavoro di valutatori ripensare a una mappatura degli stakeholder come segnalatore dell'evento che è diversa da quella che abbiamo pensato fino adesso questo secondo me potrebbe essere una strada molto interessante questa vabbè però è una più una riflessione che una domanda se posso aggiungere a questo che come centro antiviolenza chiaramente facciamo attività di sensibilizzazione di formazione e nell'attività di formazione delle scuole ormai da anni abbiamo previsto degli incontri con i professori con gli insegnanti a secondo dell'ordine degli istituti e anche con il personale ATA proprio per questo motivo perché loro sono degli osservatori fondamentali per la rilevazione dei casi sì rispetto a questo tanto per chiudere anche con una nota positiva leggevo appunto i dati stat che sono aumentati nel terzo quadrimestre del 2023 ma il trend comunque in crescita delle chiamate al numero 1522 ma non solo da parte delle donne che hanno subito violenza di qualsiasi forma perché come diceva Catina le violenze insomma hanno tante sfaccettature non dimittichiamoci anche la violenza economica la violenza psicologica eccetera quindi insomma tante sfaccettature delle volte sono anche multiple quindi voglio dire hanno un escalation di questo tipo però la cosa che mi ha colpito è che accedono appunto cioè le chiamate sono anche fatte da amici parenti della vittima questo secondo me è un segnale io lo interpreto in maniera positiva perché quel processo che abbiamo detto prima di coinvolgimento di responsabilizzazione collettiva probabilmente è qualcosa che sta pian piano prendendo piede e è imprescindibile noi sappiamo anche dalle cronache purtroppo che tante volte i familiari sono gli ultimi a sapere determinate cose quindi nel momento in cui si capta qualcosa chiaramente è importante poter avere anche un supporto dei centri antiviolenza in questo senso quindi anche sapere come comportarsi perché anche dall'esperienza indirette che ognuno di noi ha avuto chiaramente nella propria vita sappiamo benissimo che di fronte a certe notizie che ci arrivano rispetto magari a amici eccetera non sappiamo poi come come porci quindi anche avere il supporto dei centri in questo senso credo che sia importante ecco perché sono comunque delle persone che in qualche modo possono raccogliere determinati segnali anche il fatto di coglierli vuol dire avere quella attitudine che magari non è stata mai sollecitata quindi se io so che un comportamento di un certo tipo può far pensare a non occorre vedere una donna con un occhio nero voglio dire ci sono anche tanti altri segnali che possiamo cogliere anche come familiari come amici come colleghi di lavoro perché anche poi il luogo di lavoro è uno dei luoghi dove si raccontano è quello che accade in famiglia anche questo insomma è da tenere in considerazione quindi anche quello potrebbe essere un luogo dove veicolare lo strumento appunto di ascolto e di supporto dei centri se non ci sono altre domande Katina Monica chiedo a voi le organizzatrici c'è qualcun altro? c'è qualcuno? anche considerazioni libere una suggestione qualcosa? se posso aggiungere solo una cosa veloce io quando ho sottoscritto il contratto con la regione Abruzzo per fare quel progetto di cui abbiamo parlato prima ho dovuto un po' insistere per fare il modulo sulla valutazione perché viene considerato sempre un po' secondario sempre una cosa in più se ci sono i soldi noi l'abbiamo fatta Marco lo sa quasi a costo zero perché per noi era fondamentale farla ma per la regione Abruzzo no abbiamo dovuto un po' convincere i dirigenti ecco io auspico che un modulo valutazione si faccia sempre perché secondo me non è accessorio è proprio importantissimo quindi una delle cose ci dovremmo sempre ricordare ma io penso in tutti i progetti ora la presidenza del Consiglio dei Ministri fa interi progetti di valutazione ma insomma a tutti i livelli anche un po' più microterritoriali la componente valutazione secondo me è imprescindibile bene io vorrei solo dire due parole in chiusura rispetto al fatto che sarebbe importante riuscire anche a condividere le buone pratiche perché comunque di valutazione insomma se ne fa non è che non se ne fa ci rende la più sistematica più strategica inserire i valutatori e le valutatrici dei team quello sicuramente è importante però riuscire anche forse a condividere delle buone pratiche perché delle volte sappiamo o meglio non sappiamo magari che in una regione si fanno determinate cose che può essere utile magari ci sono dei luoghi già dove c'è questo scambio però insomma l'auspicio sarebbe proprio quello di riuscire il più possibile attraverso una rete scambiarsi queste buone pratiche io credo che c'è sempre da imparare da chi fa delle cose magari meglio di quelle che si stanno facendo io ho sempre creduto in questo e sono sempre cresciuta rispetto a alla mia professione quindi ci credo molto in questo motivo per cui ho accolto favorevolmente l'invito che mi è stato posto e anche questa sera ho imparato un sacco di cose quindi grazie a a tutti voi grazie anche da parte nostra auguriamoci di poter continuare questa discussione su questo tema in altra sede in altro modo ma insomma speriamo sia un arrivederci intanto grazie a tutti da parte a me grazie 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 arrivederci